Il rione Filippone di Chieti si è mobilitato con una raccolta fondi per pagare il funerale di Fausto Di Marco, ucciso da Emanuele Cipressi nella notte tra sabato e domenica con un collo di bottiglia che gli ha reciso la carotide. Sono tantissimi i locali dove si può donare un contributo libero, intanto davanti al kebab Mian Donner di via Pescara, dove è avvenuto il delitto, continua a manifestarsi tutta la solidarietà della città che non riesce a capacitarsi di un gesto così efferato e inspiegabile. Solidarietà che corre anche su Facebook e che arriva da un grande autore della musica italiana, Angelo Branduardi, che in un post ha voluto ricordare la passione per la musica di Fausto strappato alla vita, scrive Branduardi, in maniera brutale ed assurda. Era musicista di gran talento e ragazzo sensibile ed era un branduardiano come potete ascoltare in questo video. Un abbraccio ai familiari e agli amici per questa grave perdita, ma Fausto Di Marco ci seguirà ancora dall'assù. Nel frattempo sul fronte delle indagini si cercano conferme che dovrebbero arrivare dall'esame autoptico affidato dalla procura di Chieti e dal PM titolare dell'indagine Giancarlo Ciani all'anatomopatologo Pietro Falco, responsabile della medicina legale dell'ASL di Chieti, a cui parteciperà anche il consulente di parte Luigi De Pascalis. Cipressi ha raccontato il suo avvocato Roberto Di Loreto e è apparso molto provato mentre attende la fissazione dell'udienza di convalida del fermo. Punto certo per gli investigatori al momento e la testimonianza resa ai carabinieri della compagnia di Chieti, comandati dal maggiore Federico Fazio, della super testimone, una trentenne che vive a Chieti, che si è presentata spontaneamente ai militari per raccontare l'approccio respinto che avrebbe tentato Di Marco con lei poco prima dell'omicidio. Sentendosi respinto Di Marco, secondo il racconto della testimone, le avrebbe lanciato un bicchiere che lei sarebbe riuscita a schivare finendo addosso a Cipressi. Il ragazzo, che in quel momento aveva in mano una bottiglia di birra, un po' per difendere la ragazza sua amica, un po' per il bicchiere, si sarebbe avvicinato a Di Marco, ne sarebbe nata una colluttazione con i due che sarebbero finiti a terra e con Di Marco, che si sarebbe rialzato perdendo vistosamente del sangue raggiunto al collo, probabilmente dal coccio della bottiglia. La ragazza a quel punto, alla vista del sangue, pensando che Di Marco fosse solo ferito, sarebbe tornata a casa, ma quando in tarda mattinata, appreso dai telegiornali, che l'uomo era morto, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri.